Gentili ascoltatori, buona giornata al Sensitivo Locchi, fatto brutto questa notte è caduto a Ciecchia dove un tinefino in una travesse di via Termi di Traiano ha coltellato per sei volte la propria donna, riducendola in fin di vita, tuttora ricercato in tutto il territorio di Ciecchia da parte del personale dell'Arma dei Carabinieri, stazione e compagnia e niente, forse è stato già localizzato, si attendono ulteriori sviluppi, di nuovo amici buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitaveglia. Grazie a tutti